Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Andrea Genovese, ho 17 anni, sono di Varese e sono uno dei 26 finalisti del premio Chiara 2016. Devo dire che è una gran bella emozione vedere il mio racconto qua, anche perché io ho sempre scritto per me stesso, però sapere che c'è qualcuno a cui piace, che magari si ritrova, si emoziona in quello che scrivo, è la cosa più bella che possa essere, quindi buona lettura e spero vi piaccia.